buongiorno a tutti bentornati in questo nuovo video prima di iniziare vi ricordano di iscrivervi al canale lasciare like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati diciamo che i modelli stamattina vedono questa ondata di gelo divisa in due parti la prima parte sarà proprio tra il primo marzo e il 3 marzo dove appunto entrerebbe un'ondata di gelo proprio dal nord est europeo con termiche che comunque non sarebbero molto importanti ma che farebbero comunque abbassare di un bel po le temperature ecco qua la situazione del 2 marzo avrà colpito completamente diciamo tutte le coste adriatiche per quanto riguarda le coste tirreniche solamente il lazio e l'altoterreno poi ecco che per il 3 si espanderà anche su tutte le altre coste tirreniche a recensione del ovest della sicilia e scusate del ovest della calabria e di tutta la sicilia però non avrà colpito la sardigna per il 4 sarà in sicilia e sulla calabria ma come ho detto prima le termiche non saranno molto importanti ma attenzione perché il bello potrebbe arrivare proprio dopo perché proprio verso il 6 marzo si avvicinerebbe una massa d'aria gelida vicinissima ai balcani però qui non si vede perché ho messo la visione solamente dell'italia ma comunque molto vicina che proprio entro il 7 marzo potrebbe colpire direttamente il sud e parte del centro subito con una termica meno 4 che si andrebbe ad inserire la giornata del 7 marzo continuerà a rispandersi come avete visto dalla mappa ancora con una termica meno 4 poi attenzione perché proprio entro l'8 marzo entrerà una meno 8 su tutte le coste adriatiche e potrebbe entrare anche una meno 12 su alto veneto e trentino e quindi nella provincia di belluno e bolsano attenzione sempre nella giornata dell'otto col passare delle ore a causa di un moto retrogolo nel gelo si potrebbe inserire la meno 12 su alcune parti dell'alto adriatico poi attenzione perché questa meno 12 la anomalia termica si espanderà e andrà a colpire tutto il la parte centrale dell'adriatico quindi molise marche abruzzo toscana e come si può vedere potrebbe entrare anche nel Lazio poi ecco che per il 10 marzo si allenterà un po questa nata di gelo a causa delle correnti e da ovest appunto e faranno delle pressioni e come si può vedere comunque resterà da una meno da una meno 12 comunque si andrà a una meno 4 entro l'11 per ora è tutto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento medio alla prossima